Un saluto a tutti, cominciamo il panel B che è intitolato la sfida delle competenze e della qualità dell'ambiente di lavoro. Intanto un benvenuto a tutti. Intanto benvenuto a tutti. Questo panel è stato pensato all'interno dell'attuale convegno del CODAO a seguito di una serie di riflessioni, di pensieri che in qualche modo riguardano l'intero mondo universitario e che partivano, prendevano le mossa dal core centrale dell'obiettivo che è stato trattato ampiamente nella giornata odierna, questa mattina, e poi guardando, un po' analizzando la situazione, il contesto universitario più in generale, abbiamo ritenuto di focalizzare un focus che riguardasse principalmente il personale. Questo panel lo coordino io, io sono Donato De Benedetto perché non mi conosce, il direttore generale dell'Università del Salento, insieme a Loredana Segreto, che è qui accanto a me, e il direttore generale, per chi non la conoscesse, dell'Università del Piemonte Oriandale. Per trattare l'argomento che vi ho accennato come titolo, abbiamo invitato alcuni ospiti che in qualche modo agiscono, operano, all'interno del macro argomento che intendiamo trattare. E ve li presento, cominciando dalla destra, Alberto Bonisoli è il presidente del Formez. Ancora alla mia destra c'è Silvana Perfetto, dirigente di Deloitte, società che collabora con il CODAO da numerosi anni. E poi il dottor Mauro Clara, detto correttamente, e anche esso è un dirigente della Ferrero. Poi ancora Alessandra Poggiani, direttore generale dello Human Technopole, direttore amministrativo. Mi ha corretto? E un secondo, poi il professor Remo Morzenti Pellegrini, il vicepresidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Ed infine il dottor Gianluca Cerracchio, e il direttore generale presso il nostro ministero, il ministero dell'Università. Bene, ritorno quindi un po' all'inizio e ai motivi per cui abbiamo ritenuto di trattare l'argomento del personale. L'Università attraversa un periodo in cui la quantità e la qualità del personale assumono delle connotazioni particolari. E per fare questo ho preferito alcune immagini semplici, sintetiche, ma che in qualche modo ci danno l'idea di come il personale pubblico e universitario in particolare, che poi è quello che a noi interessa maggiormente, si sviluppa nelle nostre amministrazioni. Allora, vedete, questa prima immagine mette a confronto l'età media del personale nella pubblica amministrazione, lo leggete e lo vedete sulla sinistra, con l'età media del personale nelle università. Ovviamente questi dati confrontano e mettono in evidenza ovviamente il personale nell'ambito dell'università, il personale contrattualizzato. Vedete che l'andamento dell'età media rappresenta un quadro generale della pubblica amministrazione al quale non si sottrae l'università con un'età media tendenzialmente molto elevata. Idealmente noi dovremmo avere una linea orizzontale, quindi immaginare che per ogni classe di età abbiamo lo stesso numero di personale e quindi vi è un reclutamento, un andamento del personale più o meno costante. Ed infatti, se voi, riprendendo i dati, provate a fare lo stesso grafico con il personale in regime di diritto pubblico, per esempio il Ministero della Difesa o per esempio i magistrati, vedete che l'andamento degli histogrammi si appiattisce ed è sostanzialmente, magari cominciano un po' più tardi, per evidenti ragioni di titoli di studio e di accesso, però poi diventa molto più piatto. Ecco, un obiettivo, l'obiettivo che noi dobbiamo porci è immaginare un avvicendamento ed un incremento del personale nelle nostre università che parta da fasce di età molto più basse. Quindi questo è il primo quadro. Un secondo aspetto riguarda invece il possesso dei titoli di studio. Anche in questo caso io ho voluto confrontare il personale della pubblica amministrazione in generale con il personale delle università. Voi vedete che il personale delle pubbliche amministrazioni è mediamente in percentuale con titoli di studio più bassi, quindi il personale laureato è meno presente nella pubblica amministrazione in generale. Questo è un punto di rilevanza per le università dove invece le percentuali quasi si invertono. Il personale dipendente, contrattualizzato, delle pubbliche amministrazioni universitarie è in genere in possesso del titolo di laurea. Però poi vediamo che ha un aspetto che non può essere trascurato. Però è certamente un aspetto rilevante. Questo significa che abbiamo una buona qualificazione del personale in servizio. In questo caso invece ho voluto mettere in evidenza il personale suddiviso per categorie. Nell'immagine di sinistra l'ho diviso tra categorie per le quali è previsto come titolo di accesso la laurea e personale per le quali è sufficiente fino al diploma di scuola media superiore. Nell'altro grafico invece è suddiviso per l'andamento per categorie, partendo dalla B ed arrivando ai dirigenti. Come vedete sul grafico di destra non abbiamo un problema di genere nelle università italiane. A livello di dirigenti quasi si equivalgono ma poi nelle altre categorie il genere femminile è dominante. Invece quando guardiamo il dato del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, delle università, notiamo che il personale inquadrato in categorie per le quali è richiesto il diploma come titolo di accesso fino al diploma vedete che domina. E qui l'ultimo, l'ultima immagine. Questo lascia intendere riprendendo quello che avevo detto all'inizio noi abbiamo un personale particolarmente qualificato rispetto al resto della pubblica amministrazione il titolo di studio è più elevato. ma quando lo leggiamo inquadrato nella categoria di appartenenza vediamo che si invertono. Quindi sostanzialmente abbiamo molto personale con titoli di studio elevati inquadrati in categorie più basse. Questo in qualche modo introduce l'argomento principale di questo panel che io ho sintetizzato in tre parole noi dobbiamo reclutare nuovo personale lo dobbiamo reclutare in categorie più elevate per le quali si manifesta una maggiore esigenza di nuove professionalità e dobbiamo individuare immaginare come valorizzare il personale presente perché abbiamo del personale in servizio nell'università molto qualificato, preparato ma che ancora non riusciamo a valorizzare o a immaginare per loro dei percorsi interni per valorizzare la loro competenza la loro esperienza e la loro preparazione culturale. Bene, questo è il quadro che io ho voluto immaginare e ho voluto sintetizzare in poche immagini per introdurre questo panel e cederò in questo momento la parola alla dottoressa Silvana Perfetti di Deloitte perché Deloitte ha accompagnato sempre il CODAO in alcune indagini e negli anni 20-21 ha sviluppato un'indagine riferita proprio al contesto lavorativo nel quale si trova ad operare il personale universitario e da questa indagine già presentata in un'altra occasione sono emersi degli spunti molto interessanti che ci consentono di conoscere bene completamente il contesto nel quale opera il sistema universitario e poi riavvicineremo gli altri ospiti all'argomento con ulteriori domande. Quindi io cedo la parola alla dottoressa Perfetti la quale vuoi sederti al mio posto? No, no, rimaniamo così. Intanto ben trovati grazie per questo invito tra l'altro bellissima location quindi sicuramente ci aiuta oggi in un'ulteriore bellissimo confronto su questo. Come ha anticipato il collega Silvana Perfetti sono una partner di Deloitte Consulting ho la fortuna di lavorare da più di 20 anni con le organizzazioni e parlo proprio non unicamente imprese ma col tema di organizzazione nei diversi settori tra cui ovviamente il vostro nel supportarli nei processi di trasformazione del capitale umano e quindi in questi processi di trasformazione e lo capiamo già un po' da questa introduzione che ci ha fornito e portato un po' come spunti di riflessione sul tavolo il collega il tema delle competenze rappresenta sicuramente un elemento chiave nella trasformazione di quelle che sono le nostre risorse e rispetto alle necessità di capitale umano quali quantitativo quindi nel mix che non è solo ovviamente quantitativo ma qualitativo necessario per le nostre organizzazioni. Penso che voi stiate vedendo io ancora no quindi adesso vedo come fare a recuperare esattamente la mia presentazione ma iniziamo ad entrare un po' nel focus non gira neanche questo come anticipato il collega abbiamo diciamo un presidio rispetto a questo settore che direi che è decennale lavoriamo con molti di voi ormai siamo partiti circa 15 anni fa nel creare diciamo un team all'interno del portfoglio dello capitale umano dedicato proprio al vostro settore guidato dalla collega Anna Coratella che è qua seduta in sala e che molti di voi sicuramente conoscono e che si è concentrata inizialmente su creare una tassonomia comune all'interno di quello che è il comparto rispetto a quello che è il sistema professionale quindi quali sono le professionalità presenti all'interno diciamo di questo comparto nelle diverse famiglie professionali e monitorarne anno su anno quelle che sono le dinamiche gestionali le dinamiche retributive rispetto a quelle che sono le leve che ovviamente è possibile mettere in atto in termini premiali o meno e ovviamente di natura organizzativa quindi c'è sempre un ancoraggio a quella che è la struttura organizzativa a quelli che sono i ruoli e le professionalità che sono all'interno del comparto quest'anno con queste ultime ricerche in partnership con il CODAO abbiamo allargato l'osservatorio e introdotto un'ulteriore variabile quindi non solo un'analisi da un punto di vista organizzativo di processi gestionali e retributivi ma ci siamo posti un altro tema che quindi capire qual è la mappatura quindi lo stato dell'arte del comparto rispetto a quello che è il grado di copertura del nostro capitale umano rispetto a quelli che sono le esigenze su le capacità e le competenze soft considerate chiave per il comparto soprattutto in termini trasformativi e tutto il mondo delle digital mindset e digital skill che non stiamo parlando di competenze tecniche IT ma tutto quel set di competenze che possono supportare il cambiamento e il modo di lavorare in una nuova dimensione quindi la pandemia ci ha catapultati in un lavoro denominato New Ways of Working alcuni più o meno ibrido ma comunque ci ha posto di fronte alla necessità di sviluppare una serie di competenze che sono nuove e di potenziarle dove già presente proprio a supporto dei processi diciamo di cambiamenti quindi abbiamo 20 Atene partecipanti lo vediamo rappresentato un po' dalla cartina del nostro stivale quindi con una buona distribuzione geografica abbiamo sicuramente rappresentanti nel panel di grandissimo rilievo la ricerca e la raccolta è attualmente in corso quindi siamo a metà quindi oggi abbiamo l'occasione di condividere con questi diciamo colleghi e con tutti voi un po' un'anteprima dei primi risultati quindi avremo poi un ulteriore momento probabilmente nel mese di novembre sempre con Codau di condivisione e di finalizzazione di tutti gli output e di tutte le analisi però visto che il tema della competenza è centrale nei processi di attraction nei processi di reclutamento nei processi di sviluppo di retention e ovviamente di formazione abbiamo pensato di darvi una prima anteprima quindi 11 edizioni di indagine retributiva e organizzativa un job catalog dedicato quindi abbiamo creato una tassonomia comune abbiamo creato e condiviso con tutti gli atenei un modello organizzativo di riferimento e di tassonomia di famiglie e di ruoli professionali distribuito su 58 job standard tipiche del settore e abbiamo introdotto quest'anno due variabili in più uno il modello diciamo di competenze di capacità soft segmentati sostanzialmente su quelle che sono queste aree che vanno un po' a coprire tutte le dimensioni di una capacità e di una competenza soft e quindi abbiamo tutto il mondo legato alla sfera cognitiva e quindi a tutto ciò che è richiesto in termini di pensiero pensiamo a Provenzol ben sia esso operativo piuttosto che strategico di medio lungo termine tutto il mondo ovviamente dell'agire del fare del mettere in atto tutte le competenze e le capacità che sono attinenti al mondo relazionale quindi sia rispetto a un contesto e quindi a un cliente interno ma rispetto a stakeholder e contesto ovviamente esterno e di capacità diciamo relazionale e tutto il mondo invece del people management e quindi delle competenze di quelle capacità che sono richiamate diciamo nei modelli di leadership e nei modelli manageriali quindi con un gruppo di lavoro guidato da CODAO e diciamo Deroit abbiamo creato e condivisa quella che è lo schema di competenze che si articola su queste diciamo quattro aree dimensione che sono state declinate a loro volta in comportamenti organizzativi quindi quando parliamo esempio di problem solving va bene ma con quale comportamento possiamo dire che le nostre persone attuano questa capacità e qual è quel comportamento che può essere osservabile da proprio responsabile è oggetto appunto di una valutazione per comprendere rispetto a quello che è un profilo di competenza atteso quindi rispetto al ruolo ricoperto il grado di copertura delle nostre risorse quindi è una mappatura fondamentale per capire poi dove intervenire in termini di formazione di sviluppo di processi di talent management di definizione di un employee value proposition a 360 gradi sul nostro capitale umano la seconda sezione che abbiamo introdotto e condivisa col gruppo di lavoro su cui adesso questi 20 atenei stanno lavorando è tutto il mondo invece delle competenze digitali dove abbiamo detto non è una competenza tecnica non stiamo andando a mappare il fatto che io sia un programmatore python piuttosto parlando di linguaggi emergenti piuttosto che di alza e competente ma quel set diciamo di comportamenti e di capacità che supportano un mindset digitale un nuovo modo diciamo di gestire le nostre risorse di approcciarsi ai problemi di condividere la nostra conoscenza che rappresentano sicuramente una sfida evolutiva di cambiamento non solo del vostro settore abbiamo attivato osservatori simili in diversi comparti anche industriali piuttosto che del mondo della finanza e sono sicuramente aree su cui c'è tantissimo da lavorare in tutte le organizzazioni rispetto a quelle che sono le ambizioni di trasformazione e di cambiamento quindi questo è un po' il modello metodologico con cui ci siamo mossi quindi siamo andati rispetto a quella tassonomia quella job catalog ad arricchire l'osservatorio andando a mappare attraverso un processo top down quindi ogni valuta ad ogni risorsa viene valutato da proprio responsabile all'interno dell'ateneo rispetto a quello che è il livello di copertura di quelle competenze soft che abbiamo condiviso quindi l'area del pensiero l'area dell'agire l'area del relazionarsi e tutto ciò che è relativo al mondo manageriale mentre sull'aspetto di digital mindset e di competenza digitale abbiamo previsto che siano le stesse persone a dirci qual è il loro grado di copertura quanto ti senti fittante rispetto a questo comportamento quanto lo ritieni tuo e quindi invece è un processo di autoosservazione quindi due canali uno bottom up su grado di copertura digitale uno top down invece su come copriamo come mettiamo in atto quei comportamenti organizzativi rispetto a quelle capacità considerate chiave rispetto a quel ruolo abbiamo parlato di titolo di studio che sicuramente è un requisito importante però andiamo anche altro a colorare questo ruolo a dire quali sono quei comportamenti cosa devo chiedere ci sono di quel set diciamo di aree delle capacità che ovviamente sono richiesti a determinati ruoli e non ad altri e ci sono invece delle capacità che sono magari richieste a tutti i ruoli all'interno della nostra organizzazione ma quello che contraddistingue che lo differenzia è il tipo di comportamento organizzativo se è uno specialist se è un professional o se è un ruolo manageriale quindi a parità di capacità che in entrambi i casi può essere considerata chiave per il ruolo ma il comportamento organizzativo che vada a osservare e che gli richiede ovviamente differenziato rispetto alla tipologia di ruolo all'interno del quale le nostre risorse sono allocate quindi questo in overview il processo metodologico adesso quello che vorremmo fare è darvi velocemente un po' un'anteprima dei primi risultati con il sottolineo visto che anche qualche collega si è unito adesso il fatto che il processo di raccolta dati dei 20 atenei è attualmente in corso quindi siamo a metà iniziamo a vedere però cosa abbiamo raccolto e cosa abbiamo trovato proviamo a commentarli un attimo insieme allora prima di tutto di quei 20 partecipanti diciamo che abbiamo visto 40% di questi 20 hanno già stanno già lavorando quindi hanno attivato e lanciato internamente all'ateneo il processo di valutazione top down delle competenze delle capacità soft quindi supervisore responsabile che valuta il grado di copertura di Silvana rispetto al ruolo che sono chiamata diciamo ad agire nella mia organizzazione nel mio ateneo e abbiamo mappato più o meno di questi 40 il processo in itinere il 20% della totalità diciamo delle risorse del personale le aree che ad oggi sono più coperte quindi questo influenza anche il dato che vediamo prima quindi quando guardiamo un dato è sempre importante capire ma qual è il panel qual è il campione su che area organizzativa stiamo mappando questo è relativa alle famiglie professionali delle risorse umane della didattica e dell'information technology e poi abbiamo tutto il mondo amministrazione a bilancio si sta popolando questo in realtà è un dato vivo abbiamo chiesto un overview oggi abbiamo già dei dati ovviamente diversi perché in questi giorni sono arrivati altri quindi avremo poi il dato finale ma comunque gli atenei quindi anzi grazie perché non banale stanno facendo questo processo di raccolta e attivazione il 50% delle valutazioni ha interessato il personale collocato nel profilo del ruolo di professional cosa vuol dire questo professional vi ricordo che alla base sottostante al modello c'è un modello di job catalog quindi di professioni di ruolo standard che poi viene aggregato all'interno di quello che chiamate sistema professionale quindi ho dei ruoli di employee ho dei ruoli di specialist ho dei ruoli di professional quindi aumenta la profondità delle mie competenze in termini di specializzazione la strategicità anche di quelle competenze rispetto magari all'area organizzativa in cui sono allocata piuttosto che sull'asse manageriale ho dei ruoli di middle manager di manager o di multifunctional manager che sono i primi riporti al diciamo direttore generale che in questo caso non sono comunque rientrati e mappati quindi partiamo da questo livello di struttura organizzativa in giù e ad oggi diciamo che la maggior parte dei dati sono relativi al tema del professional ricordiamoci un attimo questo professional perché quindi per esempio professional abbiamo visto il titolo di studio abbiamo visto quindi qual è il livello di attese che abbiamo proviamo a capire qual è ad oggi il risultato della mappatura il 50 dei rispondenti ha più di 15 anni di anzianità ma questo l'abbiamo già commentato abbiamo provato a dare una lettura di sintesi mi richiamano al tempo e sarò nel tempo quindi abbiamo le quattro aree cognitive realizzative relazionali manageriali ad oggi l'area rispetto a questo primo campione che abbiamo analizzato più scoperto il mondo delle competenze manageriali sono professional a cui richiesto anche un tema di people management quindi forse in termini di formazione e di priorità possiamo già dire che almeno su questo piccolo panel poi vedremo come continuerà forse un'area su cui in termini di valorizzazione di formazione è necessario magari intervenire i livelli di presidio più alto sono emerse sulle capacità realizzative nel portare a casa il proprio task il compito il processo che mi è stato attribuito nell'ambito dell'accountability e nel processo relazionale il mondo del problem solving soprattutto quello legato di lungo periodo di visione di decisione e tutto il resto rappresenta delle aree che possono essere sicuramente di miglioramento però è legata poi alla tipologia di campionatura adesso come sintesi perché in 15 minuti avremo da parlarne tantissimo su ogni micro capacità sul mondo delle digital mindset invece abbiamo il 40% degli atenei hanno lanciato la survey in questo caso ricordiamoci che è un processo di auto osservazione quindi sono le persone a dirci come mi ritrovo su questo diciamo capacità legata al mondo del digitale il 55% dei rispondenti di genere femminile le aree più rappresentate sono la didattica la ricerca e l'information technology abbiamo un'età ma l'abbiamo visto che è tipica del settore il fatto di avere un'età media comunque diciamo non particolarmente bassa e un'anzianità che comunque rende rilevante quindi la connotazione di questo campione e le aree diciamo su cui ad oggi le persone ci hanno comunicato di essere più fittanti è tutto il mondo del knowledge management le altre ambiti di digital di competenze di capabilities digitali su cui diciamo tra l'altro le nuove sfide del nuovo lavoro e del future of work che stanno ponendo a tutte le organizzazioni rappresentano degli ambiti di già un buon livello di copertura su cui è possibile attivare un processo comunque di upskilling e di potenziamento ma questo direi che è comune a tutti cioè abbiamo fatto un osservatorio simile nel mondo finance con sponsorship a Biania quindi siamo diciamo quindi su questo e quindi il mondo del digital mindset è sicuramente l'ambito diciamo dove si sta intervenendo e il livello di copertura richiede sicuramente un'attenzione diciamo maggiore quindi questo molto velocemente per stare nei 15 minuti e darvi un overview dei primi risultati e il processo di raccolta è in corso e quindi entro novembre dovremo avere la finalizzazione dei dati avere quindi una mappatura del comparto del livello di copertura sulle capacità soft e digitali su cui capire come attivare processi eventualmente di reclutamento di potenziamento di upskilling di valorizzazione o altro ma sono sicura che i colleghi che mi seguiranno avranno tanto valore da dare grazie grazie a Silvana devo dire che l'intervento ha certamente completato il panorama della conoscenza del contesto nel quale noi ci troviamo ad operare devo dire che come dirigenti universitari sappiamo che abbiamo due leve recenti sulle quali noi possiamo puntare e contare per rimuovere o quantomeno ridurre tutti i gap che stiamo misurando e sono il piano di reclutamento straordinario che il ministero ha approvato un piano quinquennale che per la prima volta devo dire in questo noi abbiamo espresso un nostro auspicio come CODAO al ministero e abbiamo contribuito nell'essere ascoltati non vogliamo avere la presunzione di pensare di essere stati determinanti ma certamente siamo stati una voce che ha influito su questa scelta e il piano straordinario per la prima volta include il personale tecnico amministrativo quindi abbiamo un un innesto di risorse finanziarie aggiuntive che possiamo e dobbiamo utilizzare anche per il personale tecnico amministrativo per coprire quei gap di cui stiamo parlando e un secondo aspetto che in qualche modo si ricongiunge a quello che dicevo prima rispetto alle professionalità interne che noi abbiamo e che dobbiamo valorizzare riguarda le progressioni verticali la riforma dei concorsi riservati per il personale delle pubbliche amministrazioni che riguarda anche le università e che innova notevolmente anche rispetto al piano sulle progressioni verticali previsto per il triennio poi 20-22 poi prorogato diciamo che adesso vi è una norma a regime prevista dal decreto 165 che agevola molto i percorsi e i processi che noi possiamo mettere in essere per la progressione all'interno tra categorie all'interno delle università quindi queste sono due leve e due fattori abilitanti importantissimi che noi dobbiamo sapere che possiamo utilizzare nel corso dei prossimi anni e quindi qui intervengono ulteriori due nostri ospiti che abbiamo voluto invitare e che in qualche modo all'interno di questo contesto ci possono rappresentare come loro già all'interno delle loro organizzazioni parliamo di Mauro Clara all'interno di Ferrero quindi di un'organizzazione privata e Alessandra Poggiani Human Technopole quindi all'interno di un'amministrazione pubblica quindi di un mondo molto più vicino al nostro come loro hanno affrontato il tema del reclutamento della valorizzazione della formulazione della valorizzazione dei talenti all'interno delle loro organizzazioni quindi cedo la parola ad Alessandra Poggiani e poi a seguire Mauro Clara che ci in qualche modo descriveranno descriveranno la loro esperienza grazie però questo è Ferrero che crescerebbe un sacco però non è in un tecnopolo quindi bisogna cambiare il slide però si oppure facciamo facciamo se c'è altrimenti diamo tanto scenario contro facciamo magari nel frattempo inizio e intanto volevo ringraziare sicuramente il dottor Scuttari per l'invito e tutti voi noi siamo un ente fratello gemello e operiamo in un settore molto simile perché siamo un istituto di ricerca e credo anche avendo ascoltato gli ultimi panel delle sessioni plenarie che la nostra spero possa essere anche un'occasione di riflessione rispetto ai progetti di centri nazionali come il centro di calcolo ed altri centri che valere sui fondi del PNNR stanno sorgendo in Italia su vari domini di ricerca e che diciamo necessitano anche di un ripensamento di logiche gestionali e amministrative e quindi di valorizzazione e attrazione del capitale umano simili a quelle già affrontate ormai alcuni anni fa dall'Istituto Italiano di Tecnologia e da noi in questi anni negli ultimi 3-4 anni da quando siamo stati prima istituiti ma poi operativamente attivi e che vedono istituti di ricerca o comunque soggetti accademici che vogliono da una parte cercare di accogliere e attrarre capitale umano che sia il più possibile internazionale che riesca allo stesso tempo però ad avere un rapporto fruttuoso e quindi un termine che a me non piace che però viene molto utilizzato quello della cross-fertilization riesca a mettere insieme le esperienze migliori della comunità scientifica nazionale con la comunità scientifica internazionale e tenendo questo in equilibrio con la vita quotidiana che ciascuno di noi osserva delle diverse linee guida delle diverse normative e vincoli che il nostro status di amministrazione pubblica ci impone dall'altra parte noi abbiamo anche avuto però questo è sicuramente da una parte una sfida ma anche un vantaggio la possibilità di iniziare da zero come appunto varie iniziative che anche in questo momento stanno sorgendo possono fare poiché abbiamo aperto un nuovo capitolo e quindi abbiamo potuto cercare di dare un'organizzazione nuova e anche darci delle regole più flessibili per poter attrarre questi capitali umani nel senso che vi dicevo cioè dare sicuramente valorizzare il rapporto con le altre istituzioni scientifiche nazionali e nello stesso tempo cercare di dargli un carattere che potesse parlare con le organizzazioni internazionali e quindi con gli scienziati che provengono non solo gli scienziati anche personale amministrativo e tecnico ma soprattutto gli scienziati che provengono da altri istituti in maniera più proficua per chi non lo sapesse noi ci occupiamo di scienze della vita e quindi ci occupiamo di provare a fare ricerca di base e a realizzare infrastrutture tecnologiche scientifiche che possano anche tendere a una medicina di precisione e a una ricerca che migliori in maniera complessiva quelle che possono essere sia la prevenzione ma anche la cura delle malattie e poiché tra l'altro nel nostro DNA di istituzione c'è anche una parte che è relativa alla rigenerazione urbana di quella che fu l'esperienza dell'Expo 2015 abbiamo anche una forte focalizzazione alla realizzazione di infrastrutture che quindi hanno a che fare con la capacità scientifica molto elevata di saperle progettare e poi gestire ma anche con una capacità non banale di gestione di quello che sono lavori pubblici piuttosto che insediamenti territoriali complessi e quindi con un mix di competenze che anche a livello non puramente scientifico ha una sua particolarità e una sua professionalità molto elevata perché costruire come sapete opere pubbliche in Italia è già complicato di suo costruire opere pubbliche che hanno un impatto tecnologico e scientifico molto elevato è assai complicato perché mette insieme le difficoltà operative dei piani urbanistici e del codice degli appalti con una competenza tecnica che deve essere pro futuro e che però sconta in questo suo essere pro futuro il tempo che ci metti da quando l'hai progettato a quando l'hai realizzato e quindi poter scommettere che una volta che l'infrastruttura è realizzata è ancora sufficientemente all'avanguardia e non è semplice quindi di questo ci occupiamo e quando siamo nati nel 2019 quando è stato approvato dai ministeri vigilanti e dalla presidenza del consiglio il nostro statuto e poi assunto il direttore il professore Ian Mattai non c'era nessuno diciamo c'era lui e c'erano gli organi e quindi tutto quello che da quel momento è stato fatto ad oggi e oggi siamo circa 250 persone fra ricercatori e personale tecnico di supporto e amministrativo è stato fatto cercando di osservare le regole essere un valore per la comunità e per i fondi pubblici che ci hanno finanziato e che ci finanzieriano ma anche trovare quel giusto mix fra internazionalizzazione e valorizzazione del territorio che deve connotarci questo immagino che voi possiate tutti comprendere quanto è complicato ma questi sono i principi che ci siamo dati nei nostri regolamenti interni e che ci stanno accompagnando e ci hanno mosso fino adesso e che onestamente nell'esperienza di questi due anni in cui abbiamo appunto assunto più di 200 persone in meno di due anni mi sento di poter suggerire come una cornice di riferimento che soprattutto per quelle iniziative che hanno che sono molto dipendenti nel loro successo dalla tempestività come quelle di cui si parlava oggi rispetto alla progettazione alla programmazione del PNNR possono essere efficaci o almeno noi ce la stiamo mettendo tutta abbiamo molte aree di miglioramento ma pensiamo che lo siano certamente le regole più stringenti che le amministrazioni come le vostre le università hanno diciamo fanno più fatica e secondo me io questo credo che ci siano altri relatori che lo potranno dire meglio di me rispetto a iniziative come quelle del centro di calcolo dei progetti del PNNR suggerirei che si possano adottare che si possano adottare delle regole un po' più flessibili come quelle che noi stiamo utilizzando che prevedono tutta la pubblicità e la trasparenza del caso e anche molta attenzione alle motivazioni che diamo nelle selezioni ma che possano essere svincolate da quelli che sono processi di concorso pubblico molto molto difficili da poter efficacemente poi trovare dei loro risultati in tempi brevi noi rispetto agli avvisi pubblici ci muoviamo del tutto in linea con il 175 delle società partecipate quindi tutte le nostre selezioni sono pubblicizzate e non solo attraverso i nostri canali ma anche attraverso canali sia nazionali che internazionali che nel nostro settore fanno quasi esclusivamente riferimento alla ricerca in alcuni casi fanno riferimento anche a canali di altro tipo lì dove cerchiamo personale tecnico amministrativo e tendiamo ad avere il più possibile un outlook che non sia soltanto nazionale nelle nostre ricerche sia perché una volta che come noi si riesce ad avere un numero molto elevato di ricercatori internazionali anche le strutture a supporto devono poter essere capaci di rispondere alle esigenze e devono poter essere capaci anche di utilizzare una lingua di lavoro che non è l'italiano nella quotidianità e quindi per noi questo è un aspetto prioritario ma pensiamo che lo sia anche per dare valore all'investimento che il paese fa su istituti come il nostro che devono poter avere la possibilità di confrontarsi con istituti simili degli altri paesi europei e non solo in una maniera diciamo abbastanza snella e abbastanza facile ovviamente è molto importante che tutto questo proprio perché diciamo poi la nostra accountability deve essere deve essere sempre attenzionata è importante che ci sia trasparenza noi abbiamo molto spesso persone candidati che si propongono come accesso agli atti che vogliono vedere come le selezioni sono state svolte e lo facciamo in maniera molto tempestiva cercando di farlo sempre senza diciamo perdere nessuna occasione per poter far vedere perché e come le diverse persone sono state selezionate e in particolare per il personale di ricerca tendiamo ad avere panel che non sono composti esclusivamente da personale interno ma che hanno una serie di referi interviewer e selezionatori che vengono da istituti di tutta Europa certe volte anche oltre i confini dell'Unione Europea e che possano quindi garantire nei verbali e nella documentazione che attesta la selezione di personale di dirigenti tecnologi e di dirigenti di ricerca in maniera molto molto motivata le altre due aspetti su cui ci concentriamo molto nelle nostre attività di selezione sono quelli dell'inclusione e della parità non solo di genere ma anche della parità di trattamento una collega che è con me siamo alcuni colleghi oggi che partecipano ai lavori mi faceva notare ha ragione e probabilmente ha un po' a che fare con quegli istogrammi che tu hai proiettato prima che la rappresentanza di genere nella parte più amministrativa delle istituzioni scientifiche italiane non è ancora rappresentativa del numero di donne che invece lavorano per esempio nelle amministrazioni e questo salta gli occhi quando uno lo vede da fuori è una cosa a cui noi teniamo molto e siamo molto contenti che delle 250 persone che abbiamo assunto più o meno adesso poi siccome ogni giorno ce n'è qualcuno probabilmente non sto dando dei dati assolutamente all'unità abbiamo un 52% di presenza femminile che è ragionevolmente ben rappresentata in tutti i livelli dei diversi inquadramenti quindi con poca o nessuna differenza rispetto ai ruoli più apicali e ai ruoli più professionali o di esperto e l'altra cosa è l'inclusività che ha sempre a che fare con l'internazionalizzazione è molto difficile essere un luogo di lavoro attraente dal punto di vista internazionale se l'inclusione che è anche culturale oltre che di genere non è messa in posizione elevata rispetto alle modalità con cui si gestisce sia il capitale umano ma anche la quotidianità delle pratiche di lavoro su questo volevo portarvi come esempio diciamo una vista un po' più focalizzata su quello che cerchiamo di fare per poter attrarre persone e scienziati dall'estero e anche essere una piattaforma attraverso la quale molti ricercatori che hanno una formazione nei vostri atenei e che poi magari invece diciamo emigrano per fare dottorati o per diventare postdoc o per svolgere la loro carriera in altre istituzioni fuori dall'Italia dove il problema retributivo è ancora abbastanza non affrontato del tutto uno dei grandi temi su cui si deve necessariamente riflettere anche rispetto a quel mismatch che si vedeva prima fra titolo di studio anzianità di servizio complessità della propria professionalità maturata nel tempo e non rappresentanza di questo nell'inquadramento o nella posizione che si raggiunge all'interno dell'istituto questo è un problema è ovviamente ancora più un problema quando si cerca di reclutare personale molto specializzato molto professionalizzato da altri posti del mondo noi abbiamo cercato di mettere insieme un pacchetto che da un certo punto di vista ha sicuramente una dinamica retributiva diversa anche molto aiutata dalla legislazione fiscale che ci aiuta nel poter dare benefici molto ampi per 5 e talvolta 10 anni nel personale che rientra o a personale che comunque è residente all'estero nel momento in cui viene assunto ma che non è composto solo dalle retribuzioni che quindi è composto da servizi abbastanza di qualità per quanto riguarda il bilanciamento della vita personale della vita familiare e personale con quella del lavoro cerchiamo di dare contributi a tutto il personale fino a una certa soglia di retribuzione per poter utilizzare dei nidi in convenzione e stiamo già costruendo il nostro nido all'interno del nostro campus cerchiamo di dare molta assistenza rispetto al problema della comprensione della lingua quindi tutte le persone che provengono da altri paesi che non sono italiani che non hanno la lingua italiana come una lingua che parlano forniamo gratuitamente i corsi di lingua così come il personale italiano che però deve appunto lavorare anche con molto personale straniero forniamo gratuitamente i corsi di inglese per poter lavorare questo fra l'altro determina un un accrescimento comunque delle competenze trasversali di tutti e insieme cerchiamo anche di avere un'attenzione il più possibile tailor made per ora ci riusciamo perché ancora appunto siamo dei numeri che si riescono a gestire capisco che in istituzioni molto più grandi sarebbe assai più complicato ma cerchiamo anche di trovare servizi gestiti sulla persona almeno per la prima fase sia per la mediazione culturale sia per quanto riguarda l'assistenza consulenziale fiscale e di foresteria e approdo alla provincia milanese per le persone che devono traslocare che è complicato ma che cerchiamo di fare perché è un modo che aiuta a superare quel gap retributivo che talvolta c'è quando reclutiamo personale dall'estero e questo è tutto il tipo di servizi che che offriamo per questo tipo di reclutamento che hanno appunto una forte componente di aiuto alla relocation e aiuto all'approccio con un sistema che è quello italiano che è diverso da quello di altri paesi e che ha un contorno che è anche ulteriore a quello del luogo di lavoro l'altra gamba su cui ci stiamo muovendo che invece è più diciamo quotidianamente vicina a molte delle vostre realtà è quella della promozione dei talenti e della formazione quindi noi abbiamo molti programmi di dottorato e di borse di dottorato sia con università italiana che con università estera ma in particolar modo attraverso la SEM forniamo molte borse di dottorato in Italia e a questi dottorandi non offriamo esclusivamente una borsa ma offriamo una serie di servizi e di formazione e di accesso a infrastrutture ad elevatissimo impatto tecnologico a cui difficilmente sul territorio italiano potrebbero accedere che speriamo possano aiutare a costruire una prima fascia una prima corte di personale che passa dalla formazione al lavoro della ricerca di base anche essendo stato aiutato e formato non solo ed esclusivamente rispetto alla sua materia di dottorato ma anche rispetto alla capacità di iniziare a lavorare in gruppi di lavoro complessi in aggiunta a questo e mi fermo l'altra parte su cui abbiamo lavorato negli ultimi due anni e contiamo di poter continuare a lavorare rispetto a quelle che saranno poi i vincoli e i constraint nel tempo è un programma a cui abbiamo tenuto molto che è l'Early Career Fellowship dove formazione attrazione lavoro si uniscono insieme sono delle borse non di dottorato ma sono delle borse per l'avvio al lavoro e l'avvio alla carriera che vengono che vengono assegnate a candidati anche questi in maniera trasparente e selezionata e valutata da commissioni internazionali a cui assegniamo un importo che loro possono gestire insieme a un'altra istituzione scientifica italiana per poter avviare i loro programmi di ricerca questo mix in questo momento funziona è più facile ovviamente con dei numeri più piccoli pensiamo che l'esperienza che noi portiamo insieme ad altri istituti come la nostra debba essere un'esperienza a cui almeno per progetti a tempo e cofinanziati anche gli istituti nazionali e quelli del sistema degli Atenei possano guardare per poter almeno provare ad essere tempestivi nell'avvio di quei progetti che altrimenti a regole standard è difficile far volare nei tempi previsti grazie grazie chiedo adesso l'intervento di Mauro Clara chiedendogli possibilmente un contenimento dei tempi anche per poi eventualmente aprire un po' la discussione e avere il tempo di fare un secondo giro di tavoli di domande da questo punto di vista quindi chiederei sostanzialmente se possibile di stare nei tempi di stare nei tempi grazie buongiorno a tutti Mauro Clara cercherò di essere velocissimo 15 minuti per riassumere 3 o 4 anni di durissimo lavoro sono sfidanti ho la fortuna di lavorare in Ferrero e di occuparmi di essere talent manager e quindi di occuparmi di tutte le attività che riguardano la vita dei dipendenti dei colleghi in Ferrero dal momento in cui li andiamo a cercare al momento in cui lasciano l'azienda quindi sono trasversale su tutti i processi lavorando sulle persone e la fase lavorativa più bella che mi è capitata in Ferrero il mio intervento ha un titolo che esce un po' che è il coinvolgimento di tutti nel processo di cambiamento cambiamento ineluttabile sempre più veloce il coinvolgimento di tutti vuol dire che le persone devono essere parte attiva nel cambiamento cosa c'entra questo con la parte che riguarda l'attraction la selezione e lo sviluppo delle persone che era il tema del mio intervento e che mi hanno chiesto di fare e di testimonianza Ferrero è che noi stiamo rendendo tutti quanti i 40.000 dipendenti responsabili di ognuna di queste fasi e quindi ognuno con una sua parte di responsabilità nel cambiamento noi abbiamo detto ci siamo detti tre condizioni per vincere una strategia di business che cambia sempre più velocemente dovete pensare negli ultimi tre anni quanto hanno portato le aziende a cambiare le strategie di business anche se le avevano perfette vincenti che portavano risultati le capacità organizzative dove qui dentro entrano i processi gli strumenti che abbiamo e le competenze delle persone velocissimo noi abbiamo sei competenze trasversali a tutta quanta la popolazione che lavora in Ferrero e sono delle competenze che vanno a mappare i comportamenti attesi quindi strategie di business ma per raggiungere i risultati l'azienda si aspetta che le persone mettano in atto dei comportamenti che sono dei comportamenti in linea con i valori aziendali e poi le persone le persone al centro per noi people centricity cosa vuol dire vuol dire ad avere delle persone che sono a bordo nelle cose che fanno che siano informate e stiamo facendo sempre più dei processi di comunicazione a tutti i livelli arriviamo agli operai delle fabbriche nel comunicare cosa facciamo dove vogliamo andare i risultati che ci aspettiamo li vogliamo quindi a bordo in questo caso l'utopia di tutti quanti anche voi ed è obiettivo di oggi avere le persone giuste nel posto giusto gestite in maniera giusta e quindi persone al centro il rischio di dire persone al centro che dicono tutti noi in Ferrero penso l'abbiamo fatto da sempre ma anche gli altri ne hanno fatto le abbiamo riportate al centro perché vogliamo che siano protagonisti della vita in azienda il rischio è che poi bisogna essere conseguenti quindi nel momento in cui si dice alle persone che sono tutti talenti ecco per noi in azienda il talento è generalizzato a tutti tutti sono talenti nel momento in cui tutti sono talenti tutti sono responsabili del proprio sviluppo bisogna poi dargli la possibilità di farlo non vuol dire io non parlo di sviluppo di crescita verticale perché poi le aziende sono delle piramidi alcune aziende hanno un turnover più elevato di altre la nostra un turnover molto basso in alcune aree il turnover è zero quindi o io aspetto che il mio capo abbia un incidente o vinca la lotteria o se no difficilmente nei prossimi 20 anni se lui non va in pensione poi magari 25 perché poi andiamo sempre quindi fondamentale per noi è trovare delle persone che si sentano al centro che siano proattive che siano dei talenti perché noi cerchiamo tutti i talenti ma che siano dei talenti che decidono di venire a lavorare con la nostra azienda e quindi che ci scelgono quindi quali sono gli attori coinvolti in questo processo tutti dicevo prima i 40.000 tutti i dipendenti che sono messi al centro i manager che devono cambiare e stanno cambiando il loro modo di gestire le persone perché gestiscono persone gestiscono risultati devono essere accantabile e poi l'HR l'HR di cui io faccio parte deve cambiare l'HR deve avere sempre più un ruolo di supporto di facilitatore di accompagnatore perché tutti quelli che erano processi e strumenti HR stanno diventando processi e strumenti aziendali e abbiamo messo in aula tutti i manager del gruppo negli ultimi tre anni su tematiche relative ai processi e strumenti di HR e su tematiche relative alla cantability le persone vi faccio vedere due ruote la prima ruota è aziendale la seconda ruota è personale quella con la mia faccia al centro che è nella intranet di tutti quanti i dipendenti Ferrero devo anche dire che uno dei pochi vantaggi della pandemia è stata quella che da un'azienda che era abbastanza indietro da un punto di vista di digitalizzazione abbiamo fatto un'accelerata che ci avremmo messo dieci anni in tempi normali per arrivare oggi abbiamo praticamente tutto quanto digitalizzato la ruota l'employee life cycle accompagna tutti i processi gli strumenti che aziendalmente abbiamo in termini di attraction di recruitment di onboarding di formazione e sviluppo e poi di separation con tutti gli strumenti più o meno in linea con la ruota che sta a sinistra che le persone hanno internamente per poi definire i propri piani di sviluppo andare a vedere quelli che sono i career di Venom Framework farsi un piano di formazione vedere quali sono le posizioni aperte all'interno del gruppo e quant'altro tornando su quelli che erano i tre temi da un punto di vista di attraction sono tutte le attività di employer branding sono le attività che facciamo con voi prevalentemente la ricerca dei talenti è sicuramente una delle attività principali per noi l'obiettivo è di trasmettere al meglio quello che siamo affinché le persone che si trovano in linea con quelli che sono i nostri valori ci scelgano questo ci risparmia un sacco di lavoro di selezione e di scrematura ho messo questa slide non mi soffermo è il profilo questo è il risultato di un grande lavoro che è stato fatto internamente il profilo diciamo del neolaureato a cui ci rivolgiamo e quindi con tutte le caratteristiche di un millennium noi tutte le attività che facciamo in termini di employer branding le facciamo per andare a intercettare l'elisa della situazione aggiungo anche che mettere le persone al centro vuol dire che in azienda abbiamo fatto un grande lavoro con tutti affinché ognuno sia ambassador di Ferrero e il maggior sistema per comunicare al meglio la propria immagine è quella che testimoniano i dipendenti che ci lavorano quindi questo fondamentale una seconda parte quindi entriamo nella nella selezione selezione siamo passati da una funzione di char che guidava a una funzione di char più tutti quanti line manager si sono sviluppate una serie di attività questo è il nostro processo di selezione si sono sviluppate una serie di attività dove i responsabili in prima linea sono i line manager quindi dalla definizione di quella che è la job description sulla persona che cerchiamo all'individuazione dei canali che facciamo insieme alla valutazione dei candidati fino all'assunzione in tre di quelle quattro fasi a guidare sono i line manager importante per noi nell'individuazione dei canali di ricerca ci sono il canale interno perché il job posting è un job posting internazionale sono postate sul sistema tutte le posizioni aperte a livello di gruppo worldwide e quindi le persone se sono in linea con quello che è il profilo richiesto possono candidarsi tutti coloro che si candidano vengono comunque intervistati entrano nel processo di selezione e hanno un feedback alla fine del processo questo è quello che dicevo poi bisogna essere consistenti perché se dico alle persone che si possono candidare poi devo gestire a volte anche una mole di candidature di un certo tipo e qui riassumevo un po' quelle che sono andrei avanti noi solitamente quando cerchiamo dei talenti o delle persone da inserire andiamo su coloro che escono dalle università su coloro che hanno qualche anno di esperienza e poi su quelli esperienziati chiaramente anche il livello delle prove che andiamo a fare per selezionare le persone cambia a seconda della seniority una cosa importante poi se mi chiedete qual è la caratteristica che voi cercate in un giovane che deve entrare in Ferrero o non giovane io la rassumo nella learning agility noi cerchiamo persone che sappiano mettersi in gioco che siano flessibili che siano curiose che abbiano voglia continuamente di imparare tanto io penso che chiunque di voi lavorando in università un ingegnere che arriva adesso un ingegnere elettronico è vecchio da un punto di vista di conoscenze che ha dopo sei mesi un anno quindi noi cerchiamo persone che da quel punto di vista si mettano continuamente in gioco poi le competenze specifiche specie quelle tecniche che ci interessano gliele insegniamo sto cercando di correre il più possibile andrei avanti qua perché entrerei poi velocemente su quello che è la ruota che vi dicevo prima e su quelli che sono i spicchi che io ho a disposizione se io vado su scopri Ferrero ho tutte le attività di onboarding le attività di onboarding diventano responsabilità del manager che accoglie di una nuova risorsa all'interno del gruppo Ferrero e della risorsa stessa che è appena arrivata quindi all'interno dello spicchio onboarding che viene attivato nel momento in cui arriva un neoassunto a lui al suo capo e all'HR di riferimento e tutte le attività che deve fare nei primi tre mesi di vita in azienda che vuol dire una serie di conoscenze una serie di formazioni una serie di affiancamenti quindi sono stati catalogati in maniera che tutti quanti abbiano un onboarding di qualità nel momento in cui entrano in Ferrero posso vedere tutti quanti possono vedere tutte le charte organizzative dell'azienda possono farsi delle autovalutazioni sulle competenze hanno un loro profile che è la loro carta di identità aziendale che vanno periodicamente ad aggiornare dove all'interno ci sono anche le aspettative professionali che le persone hanno che vengono continuamente monitorate hanno la possibilità di andare sul job posting hanno il learning at Ferrer University che è il nostro portale della formazione dove all'interno ci sono 12 academy per 12 diverse famiglie professionali hanno la possibilità di entrare sui siti locali hanno la possibilità di sapere qual è l'attività formativa istituzionale che viene proposta abbiamo 3 library online a cui possono attingere qualsiasi tipo il problema nostro in questa fase è che abbiamo talmente tante cose che le persone non sanno di poterle fare e quindi stiamo riprendendo quella che è la comunicazione siamo tornati un po' indietro gli ultimi due spicchi hanno la possibilità di fare la loro proposta di piano di sviluppo che non è solo formazione ma anche esperienziale di affiancamento o la richiesta di un mentoring o di un coaching che poi definiscono col loro capo hanno la possibilità di andare a vedere il career di Venom e il framework della loro famiglia professionale o di tutte le famiglie professionali per capire quali sono le esperienze mandatori che devono fare per diventare un CFO di country di region o il CFO centrale e infine hanno una possibilità e comunque uno spicchio in cui vengono ripresi quelli che sono la loro total reward e quindi quello che guadagnano non solo la parte tangibile ma anche l'intangible e quelli che sono i flexible benefit che l'azienda mette a loro disposizione questo nel mettere le persone al centro quindi riassumendo bisogna essere molto bravi anche se noi abbiamo dei prodotti che parlano da soli per trasmettere al meglio la nostra immagine fuori per attrarre i talenti bisogna essere bravi nel selezionarli perché comunque noi vogliamo delle persone che siano sì talentuose ma che siano in linea con i nostri valori e poi bisogna essere altrettanto bravi nello svilupparli ne dargli le possibilità di formazione e sviluppo poi non tutti vogliono diventare CFO di gruppo non tutti vogliono fare un'esperienza lavorativa all'estero che apre parecchie possibilità di carriera e quindi bisogna cercare di tenere motivati e sul pezzo il più possibile il maggior numero di persone spero di essere stato nei tempi benissimo diciamo che a questo punto abbiamo conosciuto bene il contesto universitario nel quale ci muoviamo e attraverso anche l'indagine di De Loit abbiamo potuto apprezzare alcune esperienze che si sono realizzate sia nel mondo pubblico che nel mondo privato ora diciamo che avremo l'obiettivo di chiedere come dire di avere qualche dritta dagli attori qualificati che noi abbiamo selezionato come attori qualificati che possono aiutarci in questo percorso per accompagnare e qualificare maggiormente il personale pubblico universitario in particolare e quindi mi rivolgo prima di tutto a Remo Morzenti Pellegrini vicepresidente della scuola nazionale dell'amministrazione e ovviamente la prima domanda intanto è conoscere il suo pensiero sull'argomento in via generale perché comunque per noi è utile avere un quadro generale e poi una domanda sempre in particolare che un po' in qualche modo è ricorrente forse ricorrente anche nei miei pensieri però come scoprire i talenti come trattenerli se ci sono degli strumenti mi viene da pensare che l'università per esempio è una delle poche amministrazioni pubbliche italiane che non ha dei registri degli albi cioè è l'unica amministrazione ritengo che non ha delle possibilità di qualificare e di individuare e di etichettare alcune categorie del personale al suo interno dai livelli più elevati ovviamente ai livelli inferiori quindi la scuola nazionale in questo accompagna le amministrazioni pubbliche in progetti innovativi che riguardano la qualificazione del personale ecco da questo punto di vista il tuo pensiero per noi è determinante grazie buon pomeriggio un saluto e un ringraziamento agli amici del CODAO per questo invito beh allora innanzitutto prima di trattenerli bisognerebbe anche reclutarli quindi perché oggi soprattutto i direttori generali sanno e non solo che c'è una non è infrequente purtroppo che ci siano procedure di reclutamento che in parte in parte vanno addirittura deserte ma su questo ci torno tra un attimo vorrei però partire per darti una risposta da una considerazione che viene anche oltre che dalla mia nuova esperienza presso la scuola nazionale dell'amministrazione io ho iniziato questa avventura poche settimane fa ma dalla mia esperienza sul tema direttore perché vi porto due esempi che mi hanno incuriosito e appena appunto arrivato alla scuola nazionale ho subito cercato di dare una risposta a questi interrogativi nella mia esperienza sia quando abbiamo dovuto reclutare i nuovi anzi i nuovi direttori generali mi sono reso conto che da vicino che le competenze non si studiano si esercitano si sviluppano e quindi non è fondamentale soprattutto nella mia esperienza io sono un amministrativista quindi nella mia esperienza direttore sicuramente non stavo cercando un direttore generale che conoscesse la definizione del contratto di appalto anzi era interessante da qui la flessibilità nel nuovo ruolo del direttore generale che per certi versi è ancora nuovo ma è affascinante per quello la ricerca di una figura o di figure che avessero altre competenze e su questo ovviamente ritorno poi a un certo punto nella nella fase di espansione dell'università allora l'esigenza di individuare una figura particolare cioè una figura che andasse a stimolare in campo internazionale le collaborazioni dell'università e nella fattispecie delle università che allora coordinavano nel comitato regionale della Lombardia e quindi mi sono imbattuto in una serie di veti di difficoltà perché reclutare nella fattispecie un manager per le relazioni internazionali voleva dire allora o far prevalere alcune competenze a discapito di altre oppure riuscire a individuare non ci sono riuscito ve lo dico già delle competenze che riuscissero a leggere sia il mercato internazionale ma sia anche le relazioni e l'attitudine vengo ora partendo appunto da questi due esempi il ruolo della scuola nazionale la scuola nazionale dell'amministrazione ha negli ultimi mesi avuto una ulteriore valorizzazione nei suoi compiti possibilità di istituire poli formativi territoriali non ve ne parlo ma è per farvi capire che è una una istituzione in movimento in questo senso e qui arrivo subito a una delle novità delle quali vi volevo rendere partecipe proprio in seguito alla emanazione delle linee guida del PNRR dove viene valorizzato il capitale umano questa mattina abbiamo ci siamo imbattuti in diverse discussioni interessantissime ma che hanno riguardato il PNRR e l'impatto presente e soprattutto futuro con specifico raccordo con il sistema delle imprese ma il PNRR come tutti sappiamo valorizza il capitale umano e soprattutto le competenze parto da questa indicazione e il ruolo della scuola nazionale in tal senso il 14 di settembre ultimo scorso è stato approvato è stato pubblicato scusate il decreto del 22 luglio del 22 sui nuovi fabbisogni dei profili professionali da parte di funzione pubblica che per quanto riguarda le amministrazioni centrali sono vincolanti ma per quanto riguarda le singole amministrazioni evidentemente le università è indispensabile che si apra una riflessione applicativa su queste nuove su questi nuovi profili professionali mi sto mi sto riferendo in modo particolare ai funzionari passo ai dirigenti che invece penso che possa essere più interessante il decreto ministeriale 80 del 2021 già afferma già stabilisce che i dirigenti non vengono più selezionati solo sulle competenze ma anche sulle attitudini questo che cosa che cosa comporta e che cosa sta comportando e qui arrivo al ruolo della scuola nazionale dell'amministrazione l'adozione delle linee guida che la scuola ha già redatto non ne posso parlare più di tanto se non qualche dettaglio perché deve essere ancora approvato dalla conferenza stato-regioni ma quello che posso anticipare è che ritengo sia interessante soprattutto per le università sempre con questo cliché di obbligatorietà per le amministrazioni centrali e di raccomandazione per le altre amministrazioni è che finalmente avremo uno strumento metodologico che ci indicherà come reclutare secondo un modello di competenze e dico questo perché il fatto che ci siano bandi che soprattutto oggi vanno in tanti casi deserti non lo vedrei solo ed esclusivamente come un qualcosa di completamente negativo perché siamo in questa fase di transizione in cui bisogna ancora lavorare sulla qualità dei nostri bandi e quindi qui alcune amministrazioni in questo hanno delle responsabilità arrivo a questa prima indicazione preliminare la scuola in queste linee guida ha immaginato un modello di competenze con 5 aree un'area cognitiva un'area manageriale un'area realizzativa un'area relazionale e il serve management quindi questo che cosa comporterà che questa matrice in cui queste aree si intersecano e consentono e consentiranno alle amministrazioni io dico finalmente di reclutare non più e non solo in base a delle conoscenze o a delle competenze ma soprattutto a delle attitudini io vengo dalla vecchia scuola giuridica e mi ricordo che agli inizi degli anni 90 quando si insegnavano o si insegnava il tema della responsabilità dirigenziale oltre a quella amministrativa eccetera 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 civile penale e quant'altro si è cominciato a parlare della responsabilità dirigenziale cioè dell'attitudine a essere dirigente e l'attitudine a essere dirigente quindi attraverso queste nuove modalità che vi dicevo prima si potranno finalmente valorizzare i talenti e le persone rendendo finalmente e forse più attrattivo questo percorso perché dall'inizio è più chiaro sarà più chiaro quello che sarà il processo questa matrice che a giorni verrà appunto proposta alla comunità dell'amministrazione pubblica non consentirà solo di intercettare delle nuove competenze ma quali saranno le competenze del futuro nel lavoro che stiamo sviluppando alla scuola stiamo immaginando quindi un nuovo modello di reclutamento dell'amministrazione pubblica con manager che siano diciamo così solidi nella preparazione indubbiamente ma che siano altrettanto solidi nelle diverse missioni declinandolo in ambito universitario delle università stesse pensate anche ai nuovi corsi di laurea questo parallelismo non lo lascerei sullo sfondo i nuovi corsi di laurea oggi non sono solo approvati dai singoli dipartimenti o all'interno delle università ma sapete che è obbligatorio ormai declinato in modo diverso un rapporto con gli stakeholder ecco voi trovate mi oggi un nuovo corso di laurea ovviamente è attrattivo e non tradizionalmente concepito che non sia trasversale che non preveda delle con partecipazioni molto complicate in passato ma oggi considerate ordinarie interdipartimentali e soprattutto interateneo impensabili nei recinti di qualche anno fa ecco perché dico che questo stesso parallelismo deve valere per i nostri dirigenti e per i dirigenti dell'amministrazione pubblica futura e quando ancora oggi sento o si sente delle lamentele dei dirigenti verso i docenti e delle lamentele dei dei docenti verso i dirigenti si vede che questi due mondi non si incontrano questi due mondi si devono incontrare ma non solo nell'attuazione antiquata o apparentemente antiquata del principio della distinzione delle competenze ma perché oggi essere un dirigente dell'amministrazione pubblica e soprattutto in ambito universitario significa indubitabilmente essere un attore protagonista di questo nuovo processo la scuola nazionale abbiamo iniziato come vi dicevo questo lavoro che è stato appena completato e queste competenze in queste cinque aree consentiranno come linea guida sull'accesso alla dirigenza pubblica di immaginare un nuovo dirigente dell'amministrazione pubblica il PNRR come sapete supporta questo processo la scuola nazionale in prima battuta ha a disposizione anche vi anticipo una delle novità che abbiamo presentato pochi giorni fa sempre all'interno di questa nuova valorizzazione dei poli territoriali formativi perché abbiamo inaugurato eravamo con il presidente Bonisoli pochi giorni fa a Santena per inaugurare il primo polo territoriale formativo l'idea è che in questi poli regionali per la prima volta non si formino più solo le amministrazioni centrali che è il compito tradizionale della scuola nazionale ma si formino insieme all'università anche il personale delle università con le università questa è una novità che abbiamo presentato martedì che esporteremo come modello in tutte le regioni del nostro paese grazie devo dire che mi fa particolarmente piacere scoprire che per vie diverse ma stavamo lavorando sulle sfide delle competenze noi e la scuola nazionale dell'amministrazione quindi la novità che ci è stata appena esposta e che sarà pubblica nei prossimi giorni ci fa comprendere come l'argomento sia molto centrato anche rispetto all'oggetto del nostro convegno ora chiedo di nuovo ad Alberto Bonisoli presidente del Formez sempre il suo pensiero complessivo sull'argomento ed in particolare gli chiederei di focalizzare l'attenzione su un aspetto che è stato detto in diversi momenti in diverse occasioni cioè la scarsa attrattività dell'impiego pubblico di qualche settimana fa è la notizia dell'Inps che riguarda in via generale il lavoro dipendente che ha rilevato che nel 2021 un milione di posti di lavoro sono stati hanno registrato è caduto l'emozione ma era il milione che è evocare un milione e sono salvato comunque tranquilli sono salvato e il ministero è con salvato precario in questi giorni un equilibrio precario in questi giorni il milione di posti di lavoro ritorna un po' dicevo in questo caso invece in realtà e purtroppo era abbiamo registrato un milione di dimissioni dal lavoro dipendente molti soprattutto giovani abbandonano il lavoro dipendente tra cui anche quello pubblico per attivare start up trovare impiego anche all'estero attività consulenziale quindi molte volte quando cercano il nuovo impiego cercano impiego dove è possibile utilizzare o svolgere la propria attività in smart working quindi da questo punto di vista quali sono le leve per poter attrarre invece nel lavoro pubblico sempre il personale quali sono gli strumenti che sono stati utilizzati anche tenuto conto della scarsa attrattività che abbiamo sui livelli più elevati perché probabilmente sui livelli più bassi è un po' più semplice e magari di questo ci potrei dare delle conferme ma diciamo ecco questo è un mondo sul quale il parere autorevole che puoi darci è molto importante per noi bene grazie grazie mille mi sentite? bene insomma eccoci qua bene buongiorno a tutti grazie agli amici di Corao di questo di questo invito di questa occasione di di fare quattro chiacchiere sul sul tema di quello che sta succedendo nel mondo del lavoro pubblico allora faccio una piccola premessa perché non sono sicuri che tutti voi sappiate cos'è oggi Formez allora forse qualcuno di voi si ricorda di Formez perché Formazione Mezzogiorno ci vuole poco a capire da dove nasce il nome bene questo non è più così da circa 30 anni perché con il Formez precedente ha 60 anni di vita ma con la fine della politica specifica sul Mezzogiorno Formez fu trasformato in una diciamo una specie di agenzia di società di consulenza interna che aiuta le pubbliche amministrazioni a funzionare è un'associazione ci sono 55 membri di questa associazione che vanno dal Ministero della Difesa al Comune di Napoli a Lice all'Agenzia per la Cyber Security la ragione di essere di Formez è che chiunque sia associato a Formez diventa immediatamente un nostro diciamo noi diventiamo in ausa questa amministrazione quindi tutto quello che riguarda bandi affidamenti eccetera segue ovviamente un canale privilegiato noi essendo appunti in ausa abbiamo una gestione più di tipo privatistica e quindi ci chiamano a risolvere problemi che hanno a che fare con la pubblica amministrazione in generale o meglio le pubbliche amministrazioni perché il nostro mandato riguarda le 32.000 pubbliche amministrazioni che ci sono in Italia quando De Benedetto mi chiamò io onestamente gli dissi guardate che io sono abituato a casi un po' più gravi no? cioè capisco che ci sono delle problematiche all'interno del mondo universitario io avendo una visione un po' più ampia vi assicuro che insomma siete la parte buona se vogliamo non sto parlando con le situazioni patologiche però comunque penso che nell'esperienza che a Formel si ha sviluppato in questi mesi magari ci possono essere alcune indicazioni che vi possono servire sia per funzionare al vostro interno e sia e questo è la cosa per cui mi ha convinto poi De Benedetto nel vostro ruolo di hub territoriale vi faccio un esempio in Italia ci sono 7.900 comuni due terzi hanno meno di 5.000 abitanti stiamo parlando di 5.000 rotte amministrazioni che sono letteralmente a volte delle monadi dove il sindaco si fa gli atti perché non c'è nessun altro mi chiedo a chi chiamino nel momento in cui arriva una richiesta di qualsiasi natura e noi siamo bravi dal centro a far girare queste richieste e ci sta che uno dei riferimenti siano le università che hanno una presenza su tutto il territorio una reputazione quindi come dire anche un onore per me quello di poter scambiare delle informazioni anche sapendo il vostro ruolo a vostra volta di advisor di consiglieri ad altre pubbliche amministrazioni che magari non abbiamo modo di raggiungere Formes ha 350 dipendenti quest'anno faremo 90 milioni di fatturato circa la metà lo facciamo sui concorsi noi dal 2019 a suo tempo venimmo identificati dalla ministra Buongiorno come il principale agente della rinnovata stagione dei concorsi pubblici quindi ci venne assegnato il ruolo di portare avanti importanti concorsi pubblici questi concorsi partirono poi arriva il covid tutto si bloccò perché sapere che il concorso pubblico è uno degli stadi le discoteche sono tra le attività maggiore possibilità di contagio quindi venne tutto bloccato si ritornò a poter fare i concorsi il 3 di maggio del 21 il primo concorso che facciamo fu il 9 di giugno nei 7 mesi da giugno a dicembre noi facciamo i concorsi che facciamo nei precedenti dieci anni quindi dal 2010 al 2019 io feci esattamente gli stessi concorsi cogliamo anche un'occasione e questa è una novità anch'io sono stato sorpreso quando l'ho scoperto in Italia non esiste un database dei concorsi pubblici gli unici database sono i bandi che vengono di solito raggruppati da degli enti privati che fanno le varie pubblicazioni i vari siti eccetera però non esiste un database quindi nel nostro piccolo con grande umiltà ce lo siamo fatti in questo momento abbiamo un database di circa 3 milioni di candidature in questo momento attive in questo momento abbiamo 107 procedure 80 a livello diciamo regionale una ventina un po' di più a livello centrale e quindi pensiamo di avere una fotografia non è una fotografia diciamo non so quanta rilevanza scientifica possa avere però è la più grande sia pure parziale fotografia che in questo momento abbiamo sul mondo del concorso pubblico e come dire vorrei condividere con voi alcuni elementi che mi sembrano i più importanti allora il primo elemento è questo nei concorsi pubblici ci sono tre fasi dal diciamo prima del 2019 quindi stiamo parlando di un mondo in cui i concorsi pubblici di fatto non c'erano c'era il turnover da 1 a 5 e quindi quando c'era un concorso la gente come dire partecipa ma ce n'erano letteralmente pochi c'è un secondo periodo che è quello che va dal 2019 fino al 2021 quindi alla grande ripartenza e poi c'è il periodo successivo vi do un indicatore di quello che risulta a noi prima del 2019 io avevo per un posto un numero di più o meno una media di 100 candidati dal 2019 al 2021 i candidati sono saliti a 200 quindi immaginatevi come dire una pressione enorme di persone che avevano voglia di fare un concorso improvvisamente questi concorsi arrivano dal 2021 in poi io ho una media di 40 posti a candidato ho un crollo verticale del numero dei candidati per ogni posto allora l'immagine e la metafora che di solito uso io mi sono trovato in una situazione di chiusura del canale di Suez quindi con la coda delle navi appena si riapre li devo far girare in maniera militare quindi a vista io più o meno una volta alla settimana facevamo un concorso a livello nazionale quindi stiamo parlando di un'attività intensa una volta finita questa pressione quindi esaurito quello che era una pressione che si era creata nei periodi precedenti si è manifestata invece una dinamica che probabilmente è nuova e forse non siamo neanche noi preparati almeno mentalmente almeno concettualmente ad affrontarla e vi faccio un esempio noi abbiamo storicamente l'immagine di un appunto del mondo del concorso pubblico che ha il solito posto fisso sapete la metafora bene se vado a vedere la differenza di età la percentuale dei trentenni quindi fino ai trent'anni è circa del 30% come ho più o meno il 30% di over 40 allora cosa ci fanno gli over 40 parlo del 30% quindi numeri molto importanti all'interno di uno concorso pubblico signori mie il precariato noi stiamo utilizzando lo strumento del concorso pubblico per mettere a posto delle cose che nel tempo si erano accumulate e quindi noi abbiamo concorrenti che arrivano a 55 58 anni e finalmente hanno la possibilità di fare un concorso pubblico questo però non ci deve ingannare sul fatto che strutturalmente sarà sempre così non è così perché io già adesso vedo un abbassamento dell'età il che però ci provoca un piccolo problema non so se vi ricordate i numeri che hanno fatto vedere questa mattina la corte del 64 aveva un milione di nati è stato il picco del baby boom sono quelli che adesso hanno 58 anni quindi i prossimi che vanno in pensione sono questi la corte del 94 che sono quelli che in teoria dovrebbero entrare a sostituirli sono 600.000 la corte del 2022 saranno 300.000 quindi noi andiamo verso un mondo che da questo punto di vista si sta restringendo e non illudiamoci che l'emigrazione lo risolverà perché ricordo che l'unico paese presente in maniera importante a livello di immigrazione ai fini dei concorsi pubblici è la Romania perché è l'unico all'interno dell'Unione Europea tutti gli altri non sono candidabili quindi ci piaccia o no noi avremo un numero di potenziali candidati questo vale per i concorsi pubblici ma per tutto che banalmente sta un attimo diminuendo io ho dei io nei concorsi che abbiamo fatto non abbiamo una percentuale che comincia a essere visibile di posti scoperti non riusciamo a riempire tutti i posti che abbiamo a disposizione noi facciamo sia concorsi a tempo indeterminato quelli classici sia ad esempio quelli del PNRR che sono tutti a tempo determinato sul PNRR ho un tasso di non copertura di circa il 17-18% però io ho il 9-10% sui tempi indeterminati ovviamente non sto parlando questa è la media di trilussa ho delle situazioni molto diverse assistente sociale va via subito viene riempito e ho anzi la coda di idonei ingegneri tecnici economisti laureati in economia ragionieri eccetera si fa fatica si fa fatica a trovarli quindi questa è una fotografia di oggi non solo ho anche delle rinunce io ho dei concorsi che ad esempio hanno subito delle percentuali di rinunce molto importanti ad esempio un concorso per il MEF dove quasi tre quarti dei candidati hanno rinunciato e quello che abbiamo analizzato anche perché avendo il database si fa la svelta a vedere dove è andato è che metali queste rinunce perché sono andati in altri concorsi e quindi incrociandole ad esempio ci sono venute fuori un paio di riflessioni su quali sono i tool le motivazioni per farti scegliere da uno ad esempio questo va abbastanza diciamo da solo il concorso a tempo indeterminato ha un vantaggio sul tempo determinato a parità di condizioni ci torno un attimo sopra quindi un concorso a tempo determinato ad esempio che confronto fatto nello stesso periodo questo per il MEF aveva tipo il 70% di rinunce quell'altro aveva il 25% ma poi ne avevo un altro fatto per il Ministero della Giustizia a tempo determinato questa volta che ha un tasso di abbandono della metà di circa il 13% quindi il fatto di essere tempo indeterminato o tempo determinato non basta da solo nel caso del Ministero della Giustizia quello che ha fatto la differenza è che nel bando era esplicitato che chi avrebbe fatto quell'esperienza avrebbe avuto dei punti in più quando andava a fare il concorso da magistrato e questo mi torna cioè mi viene utile per fare un paio di conclusioni da cui volevo arrivare il primo è questo ci piaccia o no siamo contenti o no ma noi andremo verso una concorrenza che aumenterà di volta in volta nel settore pubblico avremo la concorrenza dal privato ma avremo anche la concorrenza dal pubblico le pubbliche amministrazioni tra di loro si faranno concorrenza voi siete messi bene cioè l'università da questo punto di vista parte ad esempio io vengo dal pronto soccorso quindi insomma vedo tante realtà allora rispetto ad altre realtà voi avete ad esempio un profilo reputazionale una brand se voglio parlare un po' difficile senza altro maggiore di altre cose però da sola non basta ad esempio una cosa che fa la differenza è l'esplicitare dove verrà fatto il lavoro in alcuni concorsi nazionali siamo andati veramente con gran fatica perché non veniva era la classica lotteria di una volta tu vai in graduatoria dopodiché arrivi al numero 133 al 133 quelli nella tua provincia sono finiti e quindi se ti va bene devi andare nell'altra regione questo i giovani d'oggi anche perché hanno più offerta hanno meno come dire sono meno legati ad una singola possibilità scegliono e quindi a parità di concorso il concorso dove viene especitato fin da subito dov'è il posto di lavoro quanti sono e quant'altro è di molto più apprezzato molto più attraente rispetto a quello diciamo che invece è più generico il secondo aspetto le progressioni di carriera l'idea di quello che può succedere una volta dentro non è un'abitudine della pubblica amministrazione noi siamo abituati mi ci metto dentro anch'io perché non sono pubblica amministrazione ma faccio i bando esattamente come per la pubblica amministrazione noi siamo abituati una volta che scriviamo il bando per noi il lavoro è finito se uno se lo vuole leggere va in gazzetta ufficiale non è più questo il momento io ho un caso che volevo raccontarvi luglio dell'anno scorso vado al ministero dei trasporti infrastrutture e trasporti e loro vogliono fare un concorso per trovare un centinaio di ingegneri e erano molto preoccupati dal fatto che avessero abbastanza candidati perché era un concorso fermo da 5 anni insomma tutte le ragioni che voi sapete e lì la soluzione qual è stata? abbiamo fatto fare un'intervista al ministro Giovannini tre giorni prima che si aprisse il bando e in questa intervista il ministro Giovannini ha spiegato che qui gli ingegneri che andavano a ricercare sarebbero stati i collaudatori dei punti per evitare problemi come a Genova quindi ha messo dentro una cosa assolutamente normale quasi scontata da un punto di vista operativo però in un concetto più grande e noi abbiamo avuto le domande non illudiamoci che pubblicare in gazzetta ufficiale sia sufficiente anche perché voi sicuramente sì ma andate al bar e chiedete quanta gente legge la gazzetta ufficiale il mondo è cambiato i giovani hanno altri modi di ricevere le informazioni secondo me tenerne conto aiuta banalmente ad avere abbastanza candidati il bando è importante è uno strumento attenzione a cosa mettiamo nel bando e attenzione a che profilo cerchiamo e vi faccio un altro esempio noi abbiamo avuto un enorme problema e non siamo riusciti a risolverlo nel trovare esperti di rendicontazione io volevo degli esperti di rendicontazione per i progetti europei fatto il bando non è andato bene abbiamo riaperto i termini non è andato bene li abbiamo ripetuto non è andato bene morale della favola stavo probabilmente andando a pescare in un insieme vuoto perché gli esperti di rendicontazione non c'hanno voglia di venire a lavorare in un'amministrazione pubblica con tutto quello che ne consegue per carità è importante diamo garanzie e quant'altro ma non gli interessa loro vogliono lavorare per vari clienti fare la rendicontazione hanno la vita impostata in un certo modo è molto meglio andarseli a prendere su me e dove volete voi attraverso un rapporto professionale piuttosto che rompersi la testa per provare ad assumerli a tutti i costi una maggiore flessibilità andare a prendere e puntare sui profili che veramente ci servono all'interno della struttura e magari altri andarli a prendere con altri tipi di rapporto e l'ultimo aspetto è sul digitale voi venite da tutta Italia io ho scoperto per esperienza personale che in alcune diciamo territori italiani il concorso pubblico ha una valenza è anche una specie di come dire presunzione di minciuci tanto per capirci per cui il fatto di fare i concorsi come li stiamo facendo oggi taglia la testa al toro oggi i concorsi vengono fatti sull'iPad le domande vengono caricate quando i candidati sono già seduti non esiste una copia cartaccia il tutto gira su una insomma una memoria che vedono solo i tre membri dei tre commissari quindi o l'hanno raccontato loro tre o non è uscita da nessun'altra parte una volta che va sull'iPad le domande escono randomizzate quindi non si può neanche copiare da quello di fianco allora questo vi assicuro che in certi territori dà una garanzia di serietà alla procedura pubblica che probabilmente non si vedeva da anni e di fatto in questo caso abbiamo un aumento delle candidature proprio perché si fidano di questa cosa qua l'ultimo aspetto e qua chiudo è va bene io adesso vi ho raccontato quello che ho visto sui concorsi pubblici e quindi sul fatto di fare entrare poi il problema sarà anche cosa gli facciamo fare una volta che sono dentro oggi si è parlato del piano di fabbisogno e giustamente si è detto noi stiamo assumendo persone che dovrebbero lavorare per 30 anni noi possiamo fare tutti i piani di fabbisogno che vogliamo ma andare io stesso se dovessi immaginare tra 20 anni quali competenze quali conoscenze dovrebbe avere un funzionario pubblico che entra dentro io non sono capace non so voi ma io non sono capace quindi a fianco di queste questo è stato il grosso sforzo di questi anni deve partire e sta partendo in questi giorni un ulteriore sforzo importante sul tema della formazione continua con SNA perché questo è un progetto che stiamo facendo insieme c'è un'importante dotazione finanziaria parliamo di centinaia di milioni di euro che verranno spesi in formazione continua per tutto il pubblico impiego la parte di cui ci stiamo occupando noi è la parte online quindi si tratta di mettere a punto alcuni sono già pronti altri li stiamo facendo adesso dei piccoli corsi online in totale saranno 500 leonioni quindi 500 pillole che verranno messe a disposizione di tutti i dipendenti pubblici affinché possano aggiornarsi che andranno dalle cose più tecniche alle cose più manageriali allo sviluppo di competenze e quant'altro quello che spetterà un po' a voi cioè chi si occupa poi di persone all'interno delle varie università sarà fare i cocktail cioè noi possiamo dare gli strumenti quello che vi invito già adesso a pensare è come questi strumenti possono essere meglio organizzati al vostro interno a chi dare accesso a qualcosa a chi proporre determinati programmi di studio ci sono anche c'è questa iniziativa l'avete sapete no 110 e l'ode ecco 110 e l'ode che appena partito ha già 2500 quanti sono iscrizioni quindi partito da niente pubblicizzato diciamo nei ritagli di tempo è già è già un risultato e questo secondo me è un potenziale molto più grande di quello che è stato realizzato fino adesso quindi tutte queste sono un po' delle visioni insomma dei suggerimenti anche dei piccoli contributi che vi ho raccontato dal mio punto di vista grazie grazie presidente e l'ultimo intervento ma devo dire a Gianluca Cerracchio che è rimasto ultimo ma solo perché poi quando si ritorna in casa un po' il ministero per noi è ritornare in casa insieme a tutte le università e quindi si fanno un po' i conti e si cerca di capire che direzione prendere e quindi noi chiediamo a te come dire intanto nella sfida delle competenze perché poi è la parola competenze che è ricorrente un'altra parola ricorrente di questa sessione ecco il ministero che cosa sta facendo per alimentare questo nuovo bacino di nuove competenze la scuola nazionale pubblicizzerà nei prossimi giorni un catalogo un nuovo catalogo il Formez avvia piani di formazione ecco il ministero da questo punto di vista come supporterà le università nella ricerca e nella formazione di queste nuove competenze di cui c'è bisogno grazie ok grazie direttore De Benedetto per la parola ringrazio anche io il CODAO per l'invito per avermi ospitato in questa splendida sede sì diciamo il ministero in effetti dovrebbe essere un po' la casa di tutte quante queste iniziative in effetti possiamo dire che sulla base anche del PNRR perché il PNRR come si diceva oggi è stata una sterzata io aggiungerei anche una sferzata perché comunque è stata una diciamo un'iniziativa che ha in qualche modo travolto positivamente le pubbliche amministrazioni a prendere in mano tutta una serie di iniziative e a mettere a terra tutta una serie di iniziative che probabilmente altrimenti avremmo messo molto tempo avremmo impiegato molto tempo a ipotizzare e a realizzare poi veremo ovviamente anche i risultati però diciamo che lo sforzo per realizzare gli obiettivi è stato posto in essere cioè mi piace partire dai testi di riferimento nel PNRR leggiamo che uno degli obiettivi è definire una strategia una visione complessiva del percorso di riforma e di innovazione organizzativa di puntare su meccanismi di implementazione e attuazione efficace e rapidi di creare strutturalmente capacità amministrativa attraverso percorsi di selezione delle migliori competenze e qualificazioni delle persone e di eliminare i colli di bottiglia che potrebbero rallentare l'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR quindi è chiaro che di fronte a questa sfida che l'Europa ci ha posto anche il Ministero non si poteva tirare indietro ed anzi è coinvolto in prima fila in una serie di misure che sono volte a valorizzare i percorsi formativi a migliorare i percorsi formativi per i pubblici dipendenti e anche per i dipendenti universitari un primo aspetto in qualche modo è stato citato con l'iniziativa Noi PA anche se quella di cui parlo io è un'iniziativa che sta a monte è la convenzione che il Ministero ha stipulato il 7 ottobre del 2021 con il Ministro della Pubblica Amministrazione nel protocollo nel quale leggiamo che le parti condividono l'importanza di accrescere il livello di formazione e aggiornamento professionale del personale delle pubbliche amministrazioni quale leva di effettivo sviluppo dell'amministrazione nell'ottica del miglioramento della qualità dei servizi da erogare ai cittadini e imprese anche nel quadro dell'efficiente attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza quindi appena adottato sostanzialmente il PNRR uno degli obiettivi che ha avuto di punta il Ministero insieme al Ministero della Pubblica Amministrazione e quindi i due ministri Messa e Brunetta è stato quello di sviluppare le sinergie tra i due ministeri e le università perché ovviamente l'oggetto poi dell'accordo sono le università e anche gli enti di ricerca è stato quello di intraprendere questo percorso che ha una serie di finalità che certamente potrebbero risolvere alcune delle questioni che sono un po' a monte di quello che si diceva prima concorsi pubblici che vanno deserti sì perché si faceva l'esempio della rendicontazione gli esperti di rendicontazione forse non apprezzano lavorare in una pubblica amministrazione ma ci sono tanti esperti di rendicontazione della spesa cioè li abbiamo formati nelle università io questo mi domando cioè per molti profili in effetti ci sarà anche diciamo così uno scambio tra pubblico e privato che in questo momento favorisce l'impiego privato rispetto a quello pubblico anche perché come dicevamo prima qui con la collega mentre ascoltavamo l'intervento i giovani hanno un po' cambiato opinione sul posto a tempo indeterminato sul posto pubblico che è rigido per eccellenza però poniamoci il tema se nelle università noi stiamo formando i nuovi profili professionali allora lo sforzo del ministero è quello di dare alle università gli strumenti per creare questi nuovi profili questi nuovi percorsi universitari e quindi anche nuovi profili professionali leggerete se avete la bontà di vederlo nel protocollo diciamo le finalità ambiziose favorire l'iscrizione dei dipendenti pubblici a corsi di laurea valorizzare esperienze di dottorato di ricerca nelle amministrazioni pubbliche favorire l'orientamento professionale dei dipendenti pubblici facendo conseguire titoli che siano di interesse sia per il dipendente che per l'amministrazione tutta una serie di iniziative che se messe a terra veramente possono realizzare gli obiettivi a cui si faceva riferimento sia stamattina che nella sessione di oggi pomeridiana come sapete poi il protocollo prevede appunto a valle degli accordi tra università e con le università e con gli enti di ricerca io faccio riferimento ad uno perché lo conosco meglio al primo che c'è stato che è stato realizzato subito dopo quello del 7 ottobre quello stipulato dalla Sapienza e lì Sapienza insieme al Ministero della Pubblica Amministrazione hanno realizzato come esista un interesse comune a definire un piano strategico unico formativo per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni anche attraverso la progettazione e il rilevamento e l'analisi del fabbisogno formativo quindi diciamo che sostanzialmente dopo questo protocollo che ha fatto l'unistratore dell'università e l'unistratore della pubblica amministrazione si è attivato un processo virtuoso per cui le università e l'unistratore della pubblica amministrazione stanno collaborando per la realizzazione di questi percorsi a favore dei dipendenti pubblici nell'ottica di realizzare quelle esigenze di fabbisogno formativo di cui prima si parlava ovviamente tutti abbiamo ascoltato con interesse sia la relazione della collega di Tecnopolla che del collega di Ferrero ecco probabilmente per arrivare a quei livelli lì ci vuole ancora un po' di tempo però insomma degli strumenti cominciano ad esserci poi dopo magari farò riferimento anche ad un altro strumento che stiamo mettendo in campo che forse aiuterà le università nella produzione di nuovi percorsi formativi l'altra iniziativa a cui voglio fare brevemente riferimento anche perché voglio rimanere assolutamente all'interno dei 15 minuti se possibile anche meno sono i dottorati PNRR sempre sulla base del PNRR come sapete abbiamo bandito cioè bandito abbiamo ripartito le risorse per fare 7500 dottorati le cui attività dovrebbero iniziare entro dicembre 2021 tra questi dottorati ce ne sono alcuni che sono destinati alla pubblica amministrazione e al patrimonio culturale se come si è detto stamattina diciamo quelli che riguardano le imprese hanno avuto qualche difficoltà un fenomeno che poi approfondiremo più avanti diciamo che quelli per la pubblica amministrazione per il patrimonio culturale hanno avuto un successo notevole per cui sostanzialmente penso che assegneremo le università hanno accettato tutte quante le borse ebbene questi questi dottorati hanno come finalità come che ha avuto la bontà di leggere i decreti perché magari si è occupato di fare la domanda per compilare la forma del Cineca per il modulo di accreditamento del dottorato questi dottorati hanno sicuramente la finalità di avvicinare il dottorato di ricerca che come sapete nasce quale migliore qualificazione quale miglior apprendistato per l'attività di ricerca quindi come quale primo passo della carriera accademica terzo livello della formazione però primo passo verso la carriera accademica il dottorato con questi interventi e con la riforma che abbiamo fatto anche col decreto 226 sta un po' cambiando natura il dottorato viene visto adesso proprio con questi dottorati dedicati ad alcune esperienze specifiche come uno strumento volta ad acquisire conoscenze professionali che dovrebbero aiutare la pubblica amministrazione lì dove i dottorati poi gli addottorati vadano a lavorare nella pubblica amministrazione o anche le imprese possano da un lato prendere forza vigore da un personale così altamente qualificato quindi ricordo le mille borse per i dottorati per la pubblica amministrazione le 200 borse per il patrimonio culturale ricordo che all'interno dei criteri di ammissibilità di questi progetti è previsto la multidisciplinarità seppure si fa riferimento ovviamente ad alcune aree disciplinari però la multidisciplinarità del dottorato il fatto di prevedere periodi di studio e di ricerca in imprese centri di ricerca pubblica amministrazione prevedere periodi di studio all'estero insomma assicurare che il dottorando comunque svolga la sua attività in strutture qualificate e scientifiche idonee allo scopo quindi sostanzialmente con questi con la riforma del dottorato e gli dottorati PNRR si sta cercando di fornire alle università al paese uno strumento che certamente non è che sia riservato ai dipendenti pubblici però che può comunque favorire la nascita io mi auguro la nascita di una nuova generazione di dottori di ricerca che con il bagaglio di queste esperienze possano effettivamente costituire un po' il perno dello sviluppo sia del miglioramento e dello sviluppo della pubblica amministrazione e perché no anche un po' della ripresa economica come ho detto tra questo diciamo tra queste iniziative ci sono anche i dottorati innovativi per le imprese che hanno avuto un minor successo di quelli di cui vi ho parlato fino adesso ma comunque prevederanno l'assegnazione di quasi 2500 borse che vengono confinanziate tra imprese e università e quindi sicuramente in quel caso il dottorato sia il corso che poi l'esito del corso del prodotto del corso e quindi lo studente che consegue il titolo avrà delle chance di inserirsi nel mondo del lavoro un altro privato un altro tema che abbiamo un altro strumento che abbiamo messo che il legislatore e poi noi come ministero abbiamo messo a terra sono quello dei patti territoriali i patti territoriali hanno una finalità soprattutto di realizzare delle sinergie tra le università e il mondo delle imprese delle pubbliche amministrazioni hanno una finalità più di tipo diciamo da terza missione quindi più territoriale è vero che sono limitati soltanto ad alcune regioni dell'Italia però sono un ulteriore esempio di come in effetti il legislatore ha indicato quale via per affrontare i temi che stiamo affrontando che stiamo analizzando quella di creare dei percorsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi altamente specializzati in grado di soddisfare sia quelli che sono i fabbisogni del mondo del lavoro e delle feriere produttive nazionali sia di migliorare e ampliare l'offerta formativa universitaria attraverso l'integrazione dell'attività di didattica o l'attività di ricerca di sviluppo e di innovazione quindi è un altro strumento che almeno le università del sud di alcune regioni del sud hanno a disposizione per realizzare percorsi nuovi un altro elemento che non è stato ancora messo a terra ma che ci auspichiamo avrà la luce tra poco è quello della riforma delle classi di laurea si è stato accennato stamattina quando si parlava con il ministro della riforma delle classi di laurea e con il professor Resta se non vado errato le classi di laurea come sono state la riforma del DM 277 come è stata impostata dal ministero allo stato e al CUN per il parere sicuramente garantirà dei margini di flessibilità alle università per creare dei percorsi universitari interdisciplinari innovativi che riusciranno sicuramente a venire incontro alle esigenze che abbiamo rappresentato nella sessione sia di stamattina che oggi insomma c'è una ricchezza di strumenti per l'università per affrontare questo tema come si diceva della poca attrattività del lavoro pubblico e anche probabilmente della necessità di creare diciamo sì proprio dei nuovi sbocchi professionali di adeguarli a quella che è l'evoluzione del mondo moderno e da questo punto di vista penso che il ministero lo stia facendo grazie al PNRR non soltanto diciamo di sua di sua sponte il massimo possibile grazie per l'attenzione ringrazio innanzitutto tutti coloro che sono intervenuti in questa prima parte della tavola rotonda abbiamo ancora un momento invece aperto al confronto anche rispetto a questi interessanti spunti che sono emersi provo un momento anche soltanto a sintetizzare ma anche a rilanciare con qualche sollecitazione che mi è nata proprio dal sentire queste esperienze questi sviluppi anche perché sia il ministero che FORM e SNA insomma stanno proponendo dei percorsi che dobbiamo saper cogliere mi è anche piaciuto in qualche modo vedere questo fil rouge dalla partenza da questa analisi che abbiamo condotto come sistema universitario che coglie perfettamente le esigenze secondo me è un punto dal quale con il quale dobbiamo veramente come università poter cogliere tutto il potenziale perché stiamo realizzando una mappatura che poi servirà in qualche modo per veicolare anche tutti i percorsi formativi e di selezione che andremo ad affrontare quindi questi temi sono tornati un po' in tutte le le relazioni però parto da una domanda proprio del che ha fatto il collega Cerracchio dice ma l'università sta preparando le professionalità di cui c'è necessità e quindi magari questo effetto di non copertura delle posizioni che andiamo a bandire come pubblica amministrazione come università vede un gap di formazione a cui dobbiamo rispondere oppure ed è questa anche la domanda che io mi faccio come amministratrice come chi sta pensando a un piano dei fabbisogni se invece non dobbiamo pensare e qui mi interessano le due esperienze che sono state portate della Ferrero di Human Technopole se invece non dobbiamo in qualche modo invertire il ragionamento e quindi andare a cercare questi talenti queste competenze di cui abbiamo bisogno in un altro modo cioè probabilmente quando noi ancora usciamo con i concorsi usciamo con dei concorsi profilati cerchiamo chi sappia fare rendicontazione di un certo tipo e non li troviamo non li troviamo perché non solo non li abbiamo formati ma forse è impossibile formarli nel modo perché immediatamente queste conoscenze saranno inadeguate nel momento in cui queste persone entrando nel lavoro cosa possono fare le università ma io penso anche le amministrazioni e le organizzazioni cioè reclutare chi abbia quelle capacità quelle soft skills quella che in qualche modo veniva indicata come learning agility cioè questa capacità invece questa attitudine e quindi puntare lì il reclutamento in modo pesante in modo determinante e poi forse formarli noi cioè innanzitutto siamo università e quindi abbiamo tutte le competenze per poterli formare nel modo forse migliore dall'altra parte li formiamo sui temi di cui abbiamo necessità quindi a parte alcune professionalità molto mirate molto specifiche di cui è una esatta necessità io penso che in questo modo si anche la risposta e la capacità nostra di selezione abbiamo anche visto delle esperienze positive in questo caso sperimentazioni e progetti pilota ad esempio io conosco quella del comune di Torino che in alcuni casi abbiamo analizzato che ha fatto selezioni mirate di giovani talenti con questo esatto scopo e questa finalità dobbiamo avere gli strumenti io segnalo sempre e Vincenzo lo sa perché torno ogni volta su questo tema non riusciamo ad avere i contatti di formazione e lavoro come strumenti della pubblica amministrazione che invece potrebbero essere strumenti utili proprio per attuare quella selezione sul campo perché è un'osservazione più lunga è un'osservazione che ci consente di veramente di andare poi a scegliere e del modo migliore e quindi anche su questo in qualche modo interrogarci se non ci siano delle aperture dall'altra come trattenere il personale che abbiamo in servizio il tema del welfare il tema dei servizi dei benefit che sono stati più volte richiamati come aspetti che completano anche gli aspetti retributivi che nelle esperienze che ci sono state presentate sono sicuramente un elemento importante che noi facciamo fatica invece a mettere in campo per una serie di vincoli che ci ritroviamo a gestire e poi infine il tema della formazione come processo insomma che dobbiamo attivare e qui gli strumenti che ci sono stati segnalati come strumenti nuovi sui quali ai quali guardare sono sicuramente di interesse quindi questa è un po' la sintesi anche rispetto ai temi che sono stati trattati ma sicuramente l'interlocuzione con voi anche su gestioni anche se rispetto a questo interrogativo che io ho sentito quasi naturale quando ho sentito queste esperienze se ci sono delle riflessioni delle considerazioni anche soltanto delle impressioni a caldo che possiamo condividere che possiamo sfruttare come occasione questa di confronto Andrea forse vieni qui così perché siccome registriamo lasciamo grazie buongiorno a tutti sono Silvestri direttore Università di Torino ringrazio tutti perché avete messo in evidenza con grande chiarezza le opportunità l'evoluzione e anche i limiti delle politiche di attrazione e di retention che abbiamo volevo proporre un piccolo punto di vista diverso un'esperienza che stiamo sperimentando che è quella di valorizzare la rete tra le università a livello nazionale e internazionale che credo sia un modo per far comprendere ai potenziali dipendenti delle università ma anche agli attuali dipendenti di essere non solo inseriti in una singola amministrazione particolarmente dinamica innovativa ma anche in una rete fortissima di altre organizzazioni nel concreto noi quello che abbiamo messo in campo è un programma di mobilità interateneo a livello nazionale e internazionale lo stiamo facendo al momento per 40 dipendenti del nostro ateneo a livello nazionale e per una quindicina a livello internazionale che consiste nel trascorrere alcune giornate poche tre giorni tre presso un altro ateneo in un'area corrispondente alla propria mansione la mansione del dipendente che consente di sviluppare conoscenze dirette network e scambio di buone pratiche è una cosa piccola costa molto poco ma noi la stiamo osservando come estremamente motivante per i dipendenti che risponde a questo bisogno di apertura mentale che soprattutto i giovani crediamo che richiedono moltissimo grazie vieni certo vincenzo buonasera sono tedesco del Politec di Torino e mi stimolavano due cose quando il collega della Ferrero ha parlato del job postic interno per individuare le competenze mi ricorda quello che sto facendo nel mio ateneo cioè per cercare di un processo di organizzazione noi abbiamo individuato 200 posizioni ci sono 300 colleghi che si sono candidati per quella posizione quindi questo mi fa piacere che senza neppure parlarci abbiamo adottato un meccanismo che dà cerca di far tirare fuori competenze che noi non riusciamo a mappare e che può darsi che siano nascoste nei meandri di tutta la complessa macchina amministrativa il professor Borzente ha detto qualcosa prima sui profili professionali o meglio sui nuovi profili quello invece è uno strumento tecnico importantissimo io una volta leggevo degli esercizi di stile su cui molti attenesi esercitavano nell'individuare delle competenze anche l'università di Padova noi a Pisa eccetera il fatto di aver raccolto delle competenze quell'elemento quindi profili collegati a competenze collegati anche a conoscenze possono essere utili per fare procedure di reclutamento ma noi abbiamo un problema nella pubblica amministrazione che la procedura di reclutamento si fa anche con la mobilità del personale che attualmente non funziona la mobilità ex articolo 30 del testo unico degli impiegati civili dello Stato non funziona perché nell'ultima versione l'utilizzo del termine posizioni infungibili trincera le pubbliche amministrazioni e cosiddetto io non ti do la persona eccetera eccetera oppure l'infungibilità dovrebbe essere dichiarata all'inizio non alla fine del processo quindi quando si completerà tutto il meccanismo nel senso che probabilmente una persona che ha delle competenze in una pubblica amministrazione potrebbe fare un'esperienza perché vuole andare a lavorare in un'altra tipologia di pubblica amministrazione quindi smettiamolo con i compartimenti stagni e quindi si farebbe quella effettiva mobilità che è uno dei problemi fondamentali del pubblico impiego terza cosa sempre ricollegandomi a Morsenti e Ferrero è interessante che l'incentivazione del personale e quindi il fatto che io alle competenze collego le ricompense passi attraverso il fatto che io riconosca al personale il fatto che abbia contribuito a qualcosa di miglioramento della macchina amministrativa o del sistema c'è anche l'ultimo che apre e chiude le porte se non viene mai censito all'interno dei meccanismi di valutazione noi abbiamo degli splendidi meccanismi è chiaro che fuoriuscirà sempre da una mappatura di competenze che sono necessarie è vero come diceva il dottor Bonisoli che c'è una carenza di posti di rinunce però ricordiamoci che in questo periodo gli atenei reclutano tutti reclutano tutti più o meno su posizioni o profili abbastanza simili perché sono connessi a progetti PNR in alcuni casi nello stesso bacino territoriale quindi questo comporta che alla fine come dire non è che poi noi creiamo anche quando c'è racchio dici i dottorandi sì sicuramente però io faccio sempre la battuta che chieda al mio giornalaio se vuol diventare dottorando perché trovare i dottorandi in questo periodo l'investimento sui dottorandi alla fine porta sì giornalisti sì giornalisti dottorandi giornalisti alla fine porta porta la fine porta la fine a non avere rivista quello che è la funzione dell'ecutamento quindi bene però il sistema ancora come dobbiamo dire si deve assestare quando dobbiamo lavorare tanto all'interno di questa direzione quindi nel saluto di anni io poi mi stimolo su queste cose ma hai cercato quindi mi hai stimolato e che mi sono venuto grazie io ho il mio meccanico però che vuole il dottorato e fa tutto visto che stiamo sul piano dello scherzo non replico ovviamente viene Alberto ci mancherebbe un contributo di un minuto io vorrei raccontarvi un'esperienza perché secondo me diciamo noi reclutiamo non bene ok o meglio potremmo reclutare molto meglio anche imparando le best practice che ci sono che ci sono in giro perché reclutiamo non bene reclutiamo non bene perché per tutta una serie di cose anche connesse al fatto che le nostre università sono molto sono polimorfiche tante strutture non riusciamo ad aggregare i concorsi per cui avendo tanti concorsi sparpagliati cioè il meccanismo di reclutamento è molto tradizionale a Padova abbiamo fatto un'esperienza e bisogna avere un po' il coraggio anche di fare cose che non sono scritte ok per forza ma probabilmente ma non sono neanche vietate forse ok il noi abbiamo provato a fare un esperimento quindi ve lo condivido anche perché come dire abbiamo fatto anche degli errori quindi diciamo non in questo processo a Padova l'ultimo bando abbiamo deciso di aggregare i concorsi per dieci abbiamo fatto quattro posizioni una per area e abbiamo bandito dieci posizioni per area quindi quaranta posizioni in un colpo solo e in queste posizioni chiedavamo per il cinquanta per cento la valutazione delle soft skills quindi delle abilità ok visto che non potevano essere specialisti quello che dicevi tu Loredana non potevano essere specialisti e abbiamo scelto di valutarle all'inizio del processo non alla fine quando le abbiamo già fatti fuori tutti sostanzialmente con le domande come dire gne 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 ecco il diciamo questa è stata una cosa come dire un po' dirompente ci ha creato anche qualche qualche però come dire il percorso non è ancora finito quindi non vi sto raccontando una cosa vi sto raccontando un tentativo e d'altra parte invece concentrandosi su profili specialistici dove avevamo diciamo le idee chiare sai dove abbiamo fatto e abbiamo deciso di pubblicizzarlo molto attraverso i canali del lavoro privato quindi linkedin piuttosto che esatto per far spiegare non solo il profilo ma anche i vantaggi che hai scrive diciamo i vantaggi indiretti quindi il welfare che c'è all'Ateneo la possibilità di carriera e così via sai dove abbiamo avuto la difficoltà maggiore e questo è un problema ed erano quattro commissioni nel fare le commissioni cioè piaceri personali telefonate del direttore generale per favore vieni in questa commissione questo è veramente un punto un punto critico in veramente veramente sul quale sul quale perché perché non riusciamo non riusciamo diciamo a abbiamo abbiamo chiesto anche qualche esperto del del settore privato la ricerca di venire a metà strada uno ci è andato via perché sono troppo lunghi sti concorsi ok quindi questo è veramente un problema veramente importante noi dobbiamo trovare il modo di pagare i commissari di concorso scusa posso posso fare un commento scusate non ho non ho parlato dei commissari perché perché penso che ci voglia un convegno apposta su sulle commissioni però se posso permettermi una piccola riflessione allora volevo solo spezzare una lancia a nostro favore mi metto diciamo noi in fondo se ci pensate siamo ancora un po' dei debuttanti in questo settore perché noi parliamo di un qualcosa che in teoria sarebbe routine noi dovremmo fare questa attività da anni con un certo ritmo capitalizzare sugli errori l'esperienza e a questo punto avremmo come dire delle best practice da condividere non dimentichiamoci che per anni non l'abbiamo fatto io ho dei commissari giusto perché volevo solo fare questo commento che avendo una grande esperienza professionale mi confessa parliamo di gente anche come dire belli senior insomma anche di un certo nome di una posizione molto importante che non hanno mai fatto i commissari in vita loro è la prima volta che si mettono in una situazione di concorso pubblico scusate con l'ansia che genera un concorso pubblico perché il concorso pubblico non solo ti becchi l'amministrazione eccetera i media il primo casino che succede vai a finire sui giornali con nome e cognome con pagine facebook che si aprono e cominciano a insultarti cioè attenzione noi stiamo entrando in questo modo e prendiamo delle persone e le buttiamo a fare senza dargli come dire quella che dovrebbe essere l'esperienza di vita della serie se ti capita questa situazione il trucco è questo invece mi metto nei loro panni hanno il bando tutto quello che non è previsto nel bando si rischia ecco perché secondo me è giusto sul commissario veramente dovremmo aprire un tema e capire chi meglio è dall'inizio però ecco teniamoci su di morale cioè stiamo imparando stiamo facendo un'attività per la prima volta in un mondo che sta cambiando tutto sommato non sta venendo male diciamocela tutta e questa dovrebbe essere un'opportunità per fare ancora meglio grazie bene direi che se non ci sono altre domande insomma abbiamo veramente sforato i tempi ma gli argomenti non interessanti io ringrazio veramente tutti della partecipazione Alberto mi sa che dovremmo continuare con questi temi magari in tavoli separati e coda davvero grazie ai nostri relatori e buon proseguimento di convegno a maggio